Giornata mondiale contro la povertà e il rapporto della Caritas parla di un'incidenza da maggio a settembre dei nuovi poveri per effetto dell'emergenza covid passata dal 31% al 45% su scala nazionale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Aumento che viene rilevato anche dalle associazioni attive sul territorio veneziano rivolte ai più fragili. Non si parla di numeri ma di tendenza preoccupante di famiglie del posto che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. In questo mese di settembre e ottobre stiamo verificando che tante nostre famiglie abituate durante l'estate a lavorare anche in modo particolarmente intenso nell'ambito del turismo di Venezia adesso toccano in qualche modo la soglia della fatica se non della povertà. E' allo strascico del lockdown e del cambiamento generato dall'emergenza sanitaria. Uomini di mezza età che generalmente facevano lavori saltuari, donne che prestavano servizio stagionale per le pulizie e per la ristorazione, non avendo lavorato quest'estate adesso si trovano in grande difficoltà. Per loro è stata organizzata una raccolta di generi alimentari davanti ai supermercati che saranno distribuiti nei centri del Don Vecchi. Nuove povertà che si allineano alle fasi tracciate dal Covid, quelle che analizza Don Gianni Antoniazzi, presidente dell'associazione Carpinetum, da sempre impegnata in iniziative solidali come la costruzione del centro di raccolta e distribuzione di genere elementari e non solo per persone bisognose. A giugno, luglio e agosto abbiamo visto sparire quasi le persone che dall'estero venivano in Italia a cercare lavoro perché forse noi italiani abbiamo toccato con mano qui a Mestre e a Venezia quel lavoro stagionale che abitualmente impegnava tante persone era venuto a meno.